Sono contento perché non era semplice affrontare questa squadra, è una squadra in salute, con giocatori di qualità. È un primo tempo molto aperto, abbiamo provato a giocare, loro ci sono ripartiti alcune volte con giocatori, lo sapevamo. Potevamo andare in vantaggio, potevamo subire il gol, però poi alla fine credo che un secondo tempo un po' più equilibrato sia un risultato giusto. Roberto? Sì, mister, diciamo che avevamo sofferto spesso gli impegni ravvicinati in passato, oggi la squadra ha portato a casa un buon punto, ma soprattutto provando comunque a giocarsela per buoni tratti del match. Quindi tutto sommato è un altro passettino verso la piena maturità, una squadra che ha saputo gestire anche i tanti impegni ravvicinati. Sì, veramente oggi era, quello che dicevo, era il rischio, il rischio e insomma partite, il viaggio, arrivare qui e affrontare un'altra gara. L'abbiamo affrontato con il Pio giusto, abbiamo provato a giocare. Il primo tempo, ripeto, sempre il nostro atteggiamento, la propria identità, di voler provare a giocare, a proporre e mi dispiace perché in alcuni momenti le occasioni migliori le abbiamo un po' agevolate a loro, una squadra già di per sé qualità e gliel'abbiamo un po' concesse. A me nel secondo tempo è stata una squadra matura, consapevole, c'è stato il momento di soffrire tenendo il campo e con i cambi abbiamo finito con diversi ragazzi, con una linea difensiva così un po' e ancora una volta siamo usciti insomma senza subire il gol, quindi mi fa veramente piacere. Mauro? Ecco mister, in questo senso i tre cambi tutti insieme all'intervallo non è una cosa che si vede molto spesso, è stato solo un discorso di gestione delle forze fisiche o anche c'era secondo lei qualcosa da sistemare a livello tattico? No, tre cambi forzati, di solito mi piace fare qualche cambio all'intervallo ma non tre, tutte e tre con qualche problema, su Valeri già lo sapevamo era a rischio e quindi ha affrontato la gara già con delle difficoltà, poi ci sono state qualche abisaglia per Gaetano e Castagnetti, quindi tre cambi obbligati e alla fine insomma poi tutto il resto nella gestione dei cambi era condizionato da quello che era successo nell'intervallo, però spero che non ci siano ripercussioni per il futuro la squadra poi comunque il secondo tempo ha tenuto bene il campo, hanno provato a spingere, oppure noi abbiamo avuto delle situazioni per poter andare in vantaggio, però poi si è portato a casa un risultato positivo molto importante. Assolutamente mister, ora come ci si organizza? Abbiamo la sosta la prossima settimana, come pensa di gestire il lavoro per arrivare alle prossime otto partite che insomma lo sappiamo saranno tutte finali, anche se in questo momento dal punto di vista della classifica dobbiamo dire che siamo molto più tranquilli. Adesso abbiamo bisogno di due giorni di riposo tutti, siamo arrivati un po' abbastanza carichi e poi si riparte con più energia e avremo diversi giorni per recuperare almeno quei giocatori che erano al limite, oggi abbiamo rivisto dopo tanto tempo e quindi prima di affrontare poi il mese terribile di aprile cercheremo di lavorare come il nostro solito cercando di recuperare quei giocatori che sono al limite, insomma come Terranova, Crescenzi, perché ne abbiamo fortemente bisogno soprattutto in un reparto che sta tirando, come si suol dire, la carretta già da troppo tempo. È vero, grazie mister e allora buon lavoro, a presto, buon rientro a Cremona.